SPOILER! Non è un video porno, sigla! Bene, buongiorno a tutti quanti ragazzi e bentornati nel mio canale. Oggi, come vedete, siamo qui con... Vittoria! Siamo qui con Vittoria Trinaniello e siamo qui con Vittoria perché Vittoria, molto probabilmente non la conoscete perché non è di YouTube, non bazzica YouTube, bazzica in Instagram, quindi se volete andare a vedere di che cosa parla, andate sul suo profilo Instagram. Piccola presentazione così capite di che cosa stiamo parlando. Allora, Vittoria è una biologa nutrizionista e una biotecnologa. Precisamente ha fatto la Trinale in Biotecnologie a Milano e poi la Magistrale in Biologia della Nutrizione. Ha lavorato come nutrizionista presso lo studio di Massimo Spattini, collaborazione che dopo l'ha portata anche a sviluppare un suo studio, un suo metodo. Assolutamente! Sulla cellulite che ora vedremo. Dopodiché si è trasferita in California dove ha fatto un Master in Immune Disregulation and Mitochondrial Health con l'A4M, quindi la scuola di medicina anti-aging. Dopodiché si è trasferita a Bali dove finalmente ha incoronato il suo signore di diventare Yoga Teacher. Dopodiché il diventare Yoga Teacher ha fatto in modo che potesse creare questo yoga, questa sequenza di asana che prende il nome di Yoga for Cellulite, Yoga per la cellulite. Perché Yoga for Cellulite? Perché nello studio di Massimo Vittoria si è specializzata proprio nella cellulite, nell'ammiglioramento della cellulite attraverso dieta, allenamento, meditazione, integrazione, tutto quello che c'è. Si può fare. Tutto quello che si può fare. Insomma eccoci qua perché oggi in questo video vogliamo parlare di, non cellulite in realtà, ma vogliamo parlare di dimagrimento localizzato. Anche se in effetti trattare la cellulite significa proprio... Andare a lavorare comunque su un accumulo di tessuto di poso in zone particolarmente critiche. Quindi dimagrimento localizzato. Quindi Vittoria, parlaci un pochettino di quella che è stata la tua esperienza, perché qua non stiamo parlando esclusivamente di teoria, stiamo parlando di pratica. Allora, sicuramente il mio interesse per il dimagrimento localizzato è nato per un mio interesse personale, nel senso che appartengo assolutamente al mio tipo ginoide. Sono sempre stata comunque soggetta ad avere, sviluppare cellulite, ritenzione idrica e cose di questo tipo. Sviluppare? Eh sì, sviluppare cellulite. Per cui insomma ero interessata principalmente per me, per capire quale fosse il metodo definitivo per dimagrire sulle gambe, senza che ogni volta mi scavo in viso e perdo il seno e le gambe restano sempre uguali, ma quindi invece ero interessata a trovare un metodo che mi permettesse di dimagrire nelle gambe, rimuovere la cellulite e basta. Quindi con il dottor Massimo Spattini abbiamo realizzato uno studio sperimentale davvero bello. abbiamo reclutato più di 100 soggetti, quindi di 100 donne, che sono state divise, quindi assegnate in tre diversi gruppi sperimentali. Il nostro obiettivo era appunto trovare un metodo che fosse in grado di diminuire la cellulite, quindi di far regredire la cellulite in tutti i soggetti che hanno partecipato. Il metodo che abbiamo provato è stato ovviamente quello di dieta in associazione ad esercizio fisico, quindi stiamo parlando di una dieta specifica non solo per il biotipo ginoide, ma proprio specifica per trattare e ridurre la cellulite. E allo stesso tempo, come protocollo di allenamento, abbiamo utilizzato dei protocolli specifici, sperimentali, mirati alla diminuzione della cellulite, dell'infiammazione e cose così. Ok, prima di andare avanti, sottolineo alcune cose perché le persone che ci ascoltano probabilmente potrebbero non essere a conoscenza di ciò. Quando diciamo ginoide, significa una persona, un soggetto che accumula grasso specialmente nella parte bassa del corpo, quindi gluteo, coscia. Le donne sono normalmente ginoidi, anche se abbiamo delle donne che non sono ginoidi, e gli uomini invece non sono ginoidi o sono androidi, anche se abbiamo delle eccezioni sempre, anche se è sempre meno con la scuola degli stormatori endocrini, la dieta abbastanza cerebolata. Però, esatto, quando parliamo quindi di biotipi costituzionali, sappiamo appunto che abbiamo questi due principali biotipi costituzionali che sono l'androide e il ginoide. Per esempio, una problematica tipica del soggetto ginoide, quindi della donna con cellulite che vuole perdere peso e tutto quanto, cosa succede? La perdita di peso avviene, ma avviene in modo omogeneo su tutto quanto il corpo, e in realtà quello che accade è che la donna inizia a dimagrire ancora di più sull'upper body, e invece la gamba, con il suo grasso ostinato, continua invece ad essere tale. Per questo il principio del dimagrimento localizzato vuole portare armonia nella forma del corpo, quindi in generale, sia se parliamo di un biotipo androide che di un biotipo ginoide, l'obiettivo del dimagrimento localizzato è assolutamente uniformare la shape, e quindi renderla esattamente più uniforme la parte superiore e la parte inferiore del corpo. Viceversa, se parliamo di un biotipo androide, cosa significa armonizzare la forma? Andare a ridurre l'eccesso di tessuto adiposo nella parte superiore del corpo e magari sviluppare un po' di più con l'allenamento la massa muscolare nel lower body. Viceversa, nella ginoide, cosa dobbiamo andare a fare? Ridurre l'eccesso di tessuto adiposo nella parte inferiore del corpo e magari cercare di fortificare un po' di più la parte superiore. in modo tale da rendere la shape uniforme. Qual è stato il disegno sperimentale dello studio che avete portato a termine? Lo studio sperimentale che abbiamo fatto sulla cellulite e sul dimagrimento localizzato è stato uno studio consecutivo ad un altro studio che aveva già precedentemente dimostrato l'esistenza del dimagrimento localizzato sia su androide che su ginoide. Il mio studio è quindi specializzato solo sul biotipo ginoide e abbiamo preso i soggetti reclutati divisi in tre gruppi. Un gruppo ha seguito la dieta specifica per la cellulite e il dimagrimento localizzato. Un secondo gruppo, oltre alla dieta, è andata ad assumere ogni giorno un litro di acqua arricchita con ossigeno altamente biodisponibile con l'obiettivo di andare a vedere se la soluzione di quest'acqua in associazione alla dieta andasse realmente a migliorare l'apporto di ossigeno all'interno appunto del corpo e quindi sappiamo che la cellulite è un problema che riguarda anche una condizione di postia per cui volevamo analizzare questa cosa. E poi il terzo gruppo, oltre alla dieta, ha anche seguito tre volte a settimana degli allenamenti in stile PHA, quindi la metodica peripheral heart action che ad oggi in letteratura è praticamente la più efficace per la riduzione della cellulite. Ok, cos'è che avete trovato? I risultati sono stati super carini. Allora abbiamo avuto risultati statisticamente significativi in tutti e tre i gruppi quindi per ogni soggetto abbiamo ripreso le circonferenze, le glicometrie delle zone interessate quindi parliamo ovviamente di cosce, glutei, fianchi e polpaccio e in aggiunta abbiamo anche valutato lo stadio della cellulite mediante le lastre termografiche a contatto che semplicemente sono delle lastre che si appoggiano e sulla base del colore che restituiscono ci permettono di classificare lo stadio della cellulite. Il primo gruppo, quindi il gruppo che ha seguito solo la dieta già solo con la dieta ha riportato diminuzioni delle picche diminuzioni delle circonferenze e riduzioni dello stadio della cellulite quindi già sappiamo che solo con una dieta possiamo avere ottimi risultati se la dieta è fatta bene e soprattutto controllata. Voi non avevate gruppi di controllo, giusto? Il gruppo di controllo era il gruppo dieta. Era il gruppo solamente con la dieta. Esatto. Il secondo gruppo, quindi quello che oltre alla dieta ha anche bevuto un litro di acqua arricchita con ossigeno, altamente biodisponibile abbiamo ritrovato una maggiore riduzione delle circonferenze rispetto alle plicometrie. Cosa significa questo? Che abbiamo una circonferenza ridotta alla fine dello studio e questo ci fa pensare che effettivamente l'acqua abbia esercitato un maggiore effetto di drenaggio. Perché la plica invece non era tanto diminuita? Perché questi soggetti in realtà non si allenavano. Ed infine veniamo al terzo gruppo, quello che ha seguito oltre alla dieta gli allenamenti in stile pH come ci aspettavamo in questo gruppo le circonferenze non sono variate tantissimo ma sono variate molto di più le plicometrie delle zone interessate. Cosa significa questo? Che l'allenamento andando ad allenare e a stimolare l'attività dei muscoli della zona inferiore del corpo in questo caso è andato ad apportare un aumento della massa muscolare ed una diminuzione del tessuto adiposo. Per questo la circonferenza non è cambiata tantissimo perché nel frattempo i soggetti hanno anche preso del muscolo e nel frattempo hanno diminuito la plica di grasso. C'è stata una ricomposizione corporea palese. Quindi a me sorge una domanda perché se le persone normalmente che cercano qualcosa sul dimagrimento localizzato per conferma che questo dimagrimento localizzato esiste o non esiste alla fine è stato fatto un caso di stato per niente cioè a noi non ci deve interessare che esista o non esista il concetto dimagrimento localizzato a noi deve interessarci il fine se mi alleno così ho quel tipo di risultato poi che la plica cambia o non cambia che si tratta di un abbassamento del tessuto adiposo sottocutaneo o che si tratti di una ridistribuzione della massa muscolare del tessuto che poi mi fa apparire più magro a noi non ci interessa niente a noi essenzialmente ci interessa che faccio questa cosa qui in questo modo qua appaio meglio raggiungo questo obiettivo se io voglio il picco del bicipite lo dico sempre non faccio i polpacci faccio il bicipite con tutte le possibili tecniche ma infatti Ivan il motivo comunque anche di questo video è che in realtà affermare che il dimagrimento localizzato non esiste è una stupidaggine perché è alla base della nostra fisiologia più noi andiamo ad utilizzare un certo distretto muscolare un certo distretto corporeo più svilupperò muscolo e quindi di conseguenza il tessuto adiposo diminuirà gli primi studi sul dimagrimento localizzato le prime osservazioni che sono state fatte sul dimagrimento localizzato sono per esempio stati fatti sui tennisti che andavano ad utilizzare sempre lo stesso braccio per lo sport che facevano e dimostravano un'applica di grasso nettamente più bassa rispetto al braccio che non lavorava questo è il dimagrimento localizzato più utilizzi quel muscolo più il grasso sopra quel muscolo andrà a diminuire però il problema degli studi è che si focalizzano nella maggior parte dei casi sull'addome quindi sulla plica addominale dunque lavorare l'addome con gli esercizi per gli addominali ti porta a un dimagrimento localizzato fino ad un certo punto statisticamente significativo eccetera le meta analisi che vengono fatte che è stata fatta una recentemente ha raccolto gli studi e alla fine la conclusione è che non esiste questo dimagrimento localizzato ma la verità è se non esiste o comunque se non si trovano altri dei risultati per quanto concerne la veridicità del dimagrimento localizzato con determinati metodi i metodi in questo caso sono l'allenamento in un determinato modo perché dire che non esiste e non trovare altre cose altre vie noi possiamo agire su un sacco di cose possiamo agire sull'alimentazione sull'integrazione sull'ossigenazione come vi ho fatto vedere nello studio che avete fatto voi utilizzando l'acqua perché non spingersi un pochettino più oltre per quanto riguarda questo concetto cioè perché avete fatto vedere palesemente che già solamente con la dieta si ha un dimagrimento localizzato dieta più allenamento si ha di più perché io mi devo focalizzare sul fare esclusivamente l'allenamento anche nelle ricerche scientifiche e non utilizzare la dieta più l'allenamento e quindi la dieta come base è utilizzare un allenamento piuttosto che un altro che è la base del bodybuilding tutti i culturisti stanno a dieta poi per vedere se un allenamento è più efficace dell'altro mantenendo la dieta si fa o una cosa o l'altra quindi cerco di capire se è più efficace lo squat in accosciata lo squat non in accosciata la leg press o la leg estension assolutamente come lavoro di più come cresco di più è più efficace un rest pose uno stress contrastato uno stripping perché non si fa qui la stessa cosa non si dà abbastanza enfasi a ciò e questo e infatti volevo collegarmi invece che non solo la dieta sia più importante però l'ho fatto vedere nello studio che mi hai citato ieri sulle nigeriane assolutamente che anche senza dieta si ha un dimagrimento localizzato se si riescono a scegliere le metodologie di allenamento più adatte esatto al contesto hanno fatto uno studio infatti bellissimo che Ivan stava citando sulle donne di Nigeria nigeriane che quindi perché ci teniamo a specificare che sono nigeriane sono ginoidi perché sono molto ginoidi quindi hanno questa costituzione ginoide molto molto sviluppata impattante impattante ecco quindi un lower body molto sviluppato esatto queste donne sono state divise in due gruppi sperimentali il primo gruppo ha eseguito l'esercizio fondamentale quindi lo squat 5 serie per 20 ripetizioni mentre invece il secondo gruppo di donne ha eseguito il kickback quindi il calcio d'asino e sempre 5 serie e 20 ripetizioni per gamba e hanno in questo modo normalizzato completamente l'intensità del lavoro sì comunque una normalizzazione un pochino fittizia perché essenzialmente lo squat è un esercizio molto articolare diverso però da quello che mi ricordo il peso era basso quindi si hanno utilizzato per il kickback delle cavigliere da due ecchi e mezzo e per lo squat hanno utilizzato un bilanciere sì sì ma forse con 5 cibo e comunque con poco peso ok dai quindi l'effort percepito deve essere stato il medesimo esatto le donne che hanno eseguito lo squat hanno aumentato di più la massa muscolare in generale nel lower body ma il tessuto adiposo non era cambiato tantissimo le donne che invece hanno eseguito i donkey kicks hanno dimostrato una riduzione abbastanza importante del tessuto adiposo mentre il muscolo non era cresciuto troppo questa è un'informazione molto carina perché sappiamo che lo squat è un esercizio fondamentale per lo sviluppo della forza ma allo stesso tempo sappiamo che il calcio d'asino quindi il kickback sostanzialmente è un esercizio molto molto funzionale nella genoide per andare a stimolare una lipolisi perché se viene eseguito ad alte ripetizioni si va a stimolare una maggiore ossigenazione della zona e quindi nel tempo anche una lipolisi e inoltre c'è da dire che comunque la natura dell'esercizio è a me piace definirlo comunque un esercizio con principi diciamo antigravitazionali perché questo? perché nell'esercizio del calcio d'asino noi andiamo a portare la gamba più su del cuore sostanzialmente quindi cosa stiamo facendo ogni volta che facciamo un kickback? stiamo portando la gamba su e quindi stiamo letteralmente spingendo tutto quanto il sangue a ritornare verso il centro del corpo e quindi verso il cuore quindi cosa stiamo facendo? stiamo stimolando il ritorno venoso e questo è importantissimo per ottenere un dimagrimento nella parte inferiore del corpo e per migliorare la cellulite certo questo è carino perché ci fa capire l'importanza anche della scelta del singolo esercizio di scegliere degli esercizi di isolamento di scegliere degli esercizi che siano funzionali ok? non solo dal punto di vista estetico ma proprio da un punto di vista organico fisiologico il kickback nella ginoide è un esercizio assolutamente fondamentale per tutti i motivi elencati migliora il tono migliora il ritorno venoso la circolazione e migliora la lepolisi quindi tutto quello che vogliamo a me vengono sempre in mente i culturisti pro che anche mentre eravamo a las vegas li ho visti che che sia classic che sia ogni cosa adductor e abductor li fanno comunque perché dovrebbe fare un abductor che è un esercizio per donne no? te lo etichettano come esercizio per donne come se ci fosse esercizio gender specific non c'è gender specifico essenzialmente anche perché è il fine che ti interessa no? nella side chest nella side triceps tu vuoi far vedere il solco sul gluteo perché fai l'abductor? perché ti focalizzi sul gluteo ed è più facile far venire le righe sul culo a parità di dieta facendo alte rap di abductor più volte al giorno anche piuttosto che fare un otto colpi assolutamente assolutamente facendo lo squat non ti focalizzi su quel movimento comunque sicuramente sulla base della mia esperienza il dimagrimento localizzato nel soggetto ginoide è una roba abbastanza semplice da risolvere perché basta prestare attenzione davvero piccole cose e il soggetto risponde veramente bene quando parliamo di soggetto androide quindi parliamo di tutte quelle persone che hanno questa pancetta ostinata che non va via è possibile solo che è un po' più complesso e richiede più rigore dal mio punto di vista sulla base della mia esperienza quello che abbiamo sempre visto è un rigore differente allora il punto è questo bisogna trovare il metodo un attimo l'addome quindi il muscolo addominale non è un muscolo che è facilmente ipertrofizzabile perché non è che cresce chissà quanto prendiamo un gluteo un gluteo ha infinite possibilità di crescita l'addome non è così quindi oltre allo stimolo allenante che attenzione deve essere presente e i crunch vanno fatti vanno fatti i reverse crunch vanno fatti i plank dinamici va fatto il twisting soprattutto tutti gli esercizi di twisting sono super importanti nell'androide se tu che ci stai ascoltando hai una costituzione androide vuoi togliere la pancia devi spaccarti effettivamente di esercizi ad alte ripetizioni per l'addome è giusto farlo inserire twisting quindi tutti quanti i movimenti di rotazione che vanno a migliorare ad aumentare l'afflusso sanguigno locale e quindi migliora l'ossigeno arriva più ossigeno e quindi la lipolisi può avvenire meglio ma soprattutto dovete davvero controllare la dieta perché il grasso a livello addominale è tra l'altro fortemente dipendente da tutta una serie di reazioni metaboliche nel senso sappiamo che comunque il grasso localizzato qui ha tutta quanta una serie di relazioni con il nostro metabolismo l'insulina eccetera eccetera ci sono diverse fasi nella prima fase dove prendi la persona media dove comunque ha un insulino resistenza dettata da uno stato di infiammazione silente continuo costante esatto e il panicolo adiposo che ha specialmente quando è grasso ostinato va a generare comunque infiammazione prima quindi sbarazziamoci di questo grasso del grasso viscerale se c'è grasso viscerale esatto o comunque sistemando la dieta per abbassare l'infiammazione perché va bene allenarsi allenare l'addome però non puoi pensare di avere un'azione positiva nel grasso addominale se comunque non ti liberi dell'infiammazione e non inizi a stare a dieta a fare uno stile di vita in generale poi poi c'è la componente del cardio che secondo me anche quindi un cardio a bassa intensità un cardio list nel soggetto androide ma quello prende in considerazione il NIT quello che è il dispendio energetico totale anche una camminata va bene l'importante è consumare un pochino più caloriche ma dopo la andiamo nel tema del bilancio calorico ma la realtà è che quando dico faccio addominali nella mentalità normale sono quei 10-15 minuti di addominali fatti quante? 2-3 volte a settimana? esatto ma cosa vuoi fare? niente allenare gli addominali non è come allenare le gambe che va bene farle due volte a settimana per comunque però un'ora e mezza cioè quando io faccio gambe per farle crescere e per avere un effetto le traumatizzi per un'ora e mezza le gambe esatto come puoi pensare di fare due volte a settimana 10 minuti di addome quando quello è il tuo obiettivo esatto se quello è il tuo obiettivo ti svegli la mattina ti fai mezz'ora di crunch o ti fai col bastone gli obiettivi fatelo ma veramente fatelo per mezz'ora androi che ci state ascoltando volete togliere questa pancia intanto iniziate a prendermi ogni giorno ma secondo me bastano 20 minuti per allenare il core in generale fatelo ogni giorno volete togliere questa pancia ogni giorno fate qualcosa dopo è facile fare gli studi sul dimagrimento localizzato sul PubMed quando questi si fanno quelle cos'è 30 rep di crunch 3 volte per 3 serie ma anche se lo facessi tutti i giorni ma che pretendi fare? cioè non c'è normalizzata la dieta non c'è normalizzato niente infatti ok se deve essere un punto fisso un punto cardine bisogna trovare tutte le possibilità per portare a termine quello che è il fine quello che è l'obiettivo esatto per dimagrire lì finché gli studi sono così ristretti e quindi le metodologie che vengono prese in considerazione sono così limitate sono limitate non si può fare niente non possiamo fare niente sì posso dire una cosa sì sì ok allora io sto in questi giorni ho sentito diverse volte Massimo Spattini perché stiamo aggiornando il libro Dietacom e mi ha chiesto di fare tutta quanta diciamo un'analisi di tutte le ultime review che sono state pubblicate sul dimagrimento localizzato Massimo mi ha chiesto Vittoria qual è il limite di questi studi la mia risposta sapete qual è stata it's funny ma il limite è che questi studi non hanno provato un reale metodo che includa dieta quanto meno e allenamento non voglio neanche citare l'integrazione ma sappiamo che dieta e allenamento in sinergia possono fare davvero tanto e quando noi parliamo di dimagrimento localizzato tra l'altro non stiamo facendo nient'altro che portare un livello maggiore di personalizzazione nei soggetti certo perché tu che sei androide e che hai questa pancia qui hai tutta quanta una serie di caratteristiche fisiche ormonali fisiologiche che ti portano ad avere quell'accumulo e quindi tu con il tuo stile di vita con la tua alimentazione a che ora mangi carboidrati a che ora mangi le proteine a che ora mangi grassi a che ora ti alleni per esempio sono tutte quante cose super fondamentali per ottenere una salute migliore un'estetica migliore sì idem per la per la genovide per la genovide il fatto che sia più difficile togliere il pannicolo adiposo dove tende di più ad accumularsi non vuol dire che sia impossibile essenzialmente anche la stessa ecco perché la stessa ioimbina funziona specialmente nelle donne perché la ioimbina va ad agire come antagonista dei recettori alfa-2-andrenergici questi recettori che cosa fanno? bloccano l'azione delle catecolamine proprio le bloccano e quindi non ho più la liberazione di quel tessuto dei acidi grassi del tessuto adiposo da da quel tessuto là quindi io vado a bloccare questi recettori che mi bloccano l'azione delle catecolamine e automaticamente riesco a dimagrire di più essenzialmente le donne hanno nelle cosce le donne ginoidi hanno nelle cosce del gluteo molti di questi recettori che con le ioimbine riusciamo a bloccare e quindi non funzionano più per fortuna e le catecolamine possono funzionare e invece gli uomini hanno molti di questi recettori uomini androidi nella pancia motivo per cui è più difficile togliere il grasso dalla pancia poi tra l'altro il grasso della pancia è un grasso che vuole rimanere lì perché serve come riserva energetica in periodi di crisi dunque sarà l'ultimo che se ne andrà ma è ovvio che se io non faccio la dieta e faccio crunch quelle tre serie due o tre volte a settimana ma che studio è che vi può far trovare che il dimagrimento localizzato esiste poi altra cosa è il dimagrimento localizzato fine dimagrimento localizzato tu lo puoi avere in diverse attraverso diverse vie perché limitarsi a dimostrare che un allenamento tra l'altro fatto a culo non ti porta ad avere un dimagrimento localizzato e poi ricordare sempre l'assenza di evidenza non evidenza l'assenza cioè se io non riesco a trovare che uno studio mi dà l'evidenza non vuol dire che quella cosa lì non esista vuol dire che è stato poi in mente cercato male o bisogna cercare bisogna cercare in modo diverso vuol dire che a nessuno ne frega niente a nessuno gli interessa niente di dimostrarlo però vedi anche questo studio sulle nigeriane citato fa vedere che esiste ma perché è uno studio che è stato fatto bene dove alcune cose sono state normalizzate e così via come diceva Ivan io sono laureata in biotecnologie e ne ho analizzati di studi scientifici nella mia vita sono stata ora in laboratorio e in realtà mi sono un po' distaccata da questo studio ossessivo degli studi scientifici perché la maggior parte delle volte presentano tantissime limitazioni e ci tengo anche a dire una cosa così capite bene sono stati in grado di dimostrare scientificamente che gli zuccheri non causano il diabete ma certo dipende sempre a chi finanziare questo studio è stato alla fine si è scoperto che questo studio che ha dimostrato questa cosa da chi era sponsorizzato dalla coca cola per cui la scienza può dimostrare quello che vuole questa è la verità non lo troviamo più questo studio mi sembra che l'abbiamo tolto no perché poi dopo è uscito fuori uno scandalo tutti quanti i dipendenti sono stati licenziati tra l'altro non lo sapevano neanche quindi tutto quanto è un casino però davvero quando noi parliamo di argomenti delicati e tra l'altro multifattoriali come il dimagrimento localizzato uno studio è la maggior parte delle volte limitante quando si parla di dimagrimento dobbiamo tenere in considerazione una serie di cose gli ormoni per esempio la prevalenza ormonale di ciascun individuo a seconda del biotipo a cui appartiene e per esempio nessuno in uno studio scientifico sul dimagrimento localizzato è andato mai a fare un intervento per migliorare magari uno squilibrio ormonale da cui dipende quell'accumulo di tessuto adiposo non so se mi spiego qua siamo già indietrissimo cioè questi qua neanche si mettono a fare la dieta alle persone in un determinato modo per capire se con la dieta più allenamento può avere un effetto positivo siamo troppo indietro da un punto di vista della ricerca scientifica ovvio che sotto sotto il profilo ormonale sarebbe carino farlo ma qual è il problema che anche da un punto di vista ormonale non è il quantitativo di ormoni circolanti ma è quelli presenti all'interno della cellula e va sulla base della sensibilità recettoriale poi ovvio quando invece trovi e questo in condizioni standard nella maggior parte dei casi le persone che vogliono dimagrire sono persone comunque sane con range ormonali nella norma ma non vuol dire che non abbiano prevalenza estrogenica o androgeno dipende sempre invece quando questo lo si può fare quando siamo in un contesto di patologia dove c'è dominanza estrogenica conclamata dove c'è scarso progesterone dove c'è scarso testosterone scarso testosterone è facilissimo da trovare e lì si e anche scarso progesterone e scarso progesterone nella donna ma chi lo misura essenzialmente poi hanno tutte quante la pillola anticoncezionale addosso dunque hanno dominanza estrogenica quasi tutte scarso progesterone però il fatto è questo vogliamo davvero che il dimagrimento localizzato spicchi il volo bene una azienda farmaceutica con un sacco di soldi deve fare un farmaco che dice se sei ginoide questo farmaco qua ti porta ad avere un dimagrimento localizzato immediato vuoi vedere che se ti finanziano lo studio sul dimagrimento localizzato fatto bene bell' nome di una bella casa farmaceutica sotto che dai soldi come dimostrano che il dimagrimento localizzato esiste ma basta schioccare le dita e te lo dimostrano che esiste anche solamente con l'allenamento e solamente con la dieta ma li sono interessati perché assieme ci mettono il farmaco ma non potranno ad esempio mai creare un farmaco che dice che va contro il dimagrimento localizzato perché il dimagrimento localizzato fino ad ora scientificamente non esiste non è approvato per la comunità scientifica non è approvato ma esiste tutti noi lo sappiamo esatto e basta che entri in una palestra di bodybuilding dove i pro si allenano se gli chiedi ma secondo te esiste ti dice di sì perché lo hanno provato sulla loro pelle poi più andiamo indietro nel tempo più in realtà parliamo di bodybuilding old school più la gente senza sapere senza tutta questa scienza lo sentiva perché lo sperimentava in palestra Samir Barmut quando siamo stati a Napoli mi fa fai questo crunch che sarebbe il leg raise obliquo per lavorare saltorio mi fa fai questo per il saltorio e quello cazzo ragazzi è sia per trovia che dimagrimento localizzato perché se io faccio quello il muscolo si vede di più stop così come il mio personal trainer storico di Napoli che adesso è cucuzza esatto cucuzza quando da ragazzina gli ho chiesto di allenarmi mi ha messo a fare 15 minuti di elliptica e 15 di affondo ditemi se questo non è dimagrimento localizzato alla fine secondo me quello che comunque mi viene da dire alle persone che ci scolteranno è che non c'è bisogno di stare ad impazzire per trovare conferme cose studi scientifici o altro fidatevi dell'esperienza ok provate a fare delle cose diverse se fino a ora non avete ottenuto quello che cercavate dovete sicuramente cambiare approccio perfetto iniziate a fare qualcosa iniziate a percepire su di voi a sperimentare su di voi un eventuale cambiamento e questa secondo me è la cosa più importante cioè non perdersi nella teoria ma andate sperimentate fate questi crunch fate questi donkey kick fatevi il vostro carico utilizzate le bande elastiche utilizzate le cavigliere fate quello che dovete fare impegnatevi e poi ci dite perché è una roba estremamente pratica ed estremamente intuitiva esatto per cui cioè è come voler dimostrare che noi siamo energia è la stessa cosa basta avete smettere di procrastinare è intuitiva avete l'addome e volete buttarlo via al posto di guardare gli studi su pubmed andate a fare quei crunch per un'ora al giorno tutti i giorni vai da domani 20 minuti tutti i giorni a fare i twisting avete il culo piatto avete la coscia di una vacca bene andate a dieta e andate ad allenarvi senza cercare 10.000 studi su pubmed che è quello che vedo state procrastinando in continuazione ok agite fate avete migliaia di palestre si blocca anche un flusso bene sbloccatevi ok penso sbloccate i vostri flussi sbloccate i vostri flussi sanguigni stimolate l'apporto di sangue di ossigeno in tutti i distretti corpori quindi non solo nelle gambe solo nell'addome ma pure qui nel brain e anche più sotto bene speriamo di avervi fatto sbloccare i flussi sanguigni con questo video last message androidi e ginoidi e ginoidi che ci seguono dovete tenere in considerazione una cosa che ciascuno di voi ha un enorme potenziale ok ciascun corpo ha dei punti di forza e dei punti di debolezza scegliere di ottenere un dimagrimento localizzato scegliere di lavorare per questo non significa altro che fare del proprio corpo della pura arte perché tu stai andando ad enfatizzare quelli che sono i tuoi punti di forza e stai andando a rafforzare quelli che sono i tuoi punti di debolezza per cui alla fine ti ritrovi che il tuo corpo è esattamente un'opera d'arte ciascuno di noi ha un potenziale bisogna solo saperci lavorare per farlo uscire in inglese opera d'arte come si dice? masterpiece brava ok so be a masterpiece ah e un'ultima cosa visto che abbiamo parlato di cellulite di magrimento localizzato yoga for cellulite che è il programma creato proprio da Vittoria dunque ha fatto delle sequenze di yoga esclusivamente per la cellulite per la ritenzione idrica per voi femminucce anche se siete forse 80% maschi quelli che mi seguite però sicuramente regalatelo alle vostre fidanzate esatto avete vogli fidanzate quello che volete figlie andate sul sito di Vittoria è un capolavoro yoga for cellulite è realmente un capolavoro e realmente funziona è prova che il demagrimento localizzato non è follia anche se noi siamo folli comunque sempre ciao ragazzi e grazie per averci seguiti saluta Vittoria namaste ciao a tutti